Il bilancio della Puglia non ha passato l'esame del Governo. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. La decisione, scrivono in una nota di Palazzo Chigi, è stata presa in quanto la legge contiene disposizioni in contrasto con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i principi in materia di ordinamento della finanza pubblica e, pertanto, viola l'articolo 117,3 della Costituzione. Il passaggio incriminato, a quanto pare, è quello sui cosiddetti destabilizzati, ossia quelle centinaia di medici e dirigenti sanitari in tutta la Puglia per i quali era stata decisa la conferma dei contratti per altri sei mesi. Un emendamento approvato a maggioranza, quello dei capigruppo di entrambi gli schieramenti, che modificava di fatto la legge regionale 11 del 2012, consentendo alle ASL di prorogare fino al 31 dicembre i contratti in scadenza al 30 giugno. Una deroga fortemente voluta dalla Regione, vista la carenza di personale medico negli ospedali ed il blocco del turnover imposto dal piano di rientro. Nessuna preoccupazione per la gestione del personale sanitario, secondo l'assessore regionale Ettore Attolini. Il Consiglio regionale, spiega l'assessore alla salute, è infatti già intervenuto sul tema due volte dall'inizio dell'anno, al fine del chiarimento dell'utilizzazione del personale cosiddetto destabilizzato, fino alla definizione delle procedure che sono contemplate dal piano di rientro. Anche in caso di annullamento da parte della Corte Costituzionale, conclude Attolini, non ci saranno effetti per il personale, anche grazie alla sequenza di atti approvati dalla Giunta, che ha varato il piano di rientro e approvato le piante organiche e che consentirà l'utilizzo del personale sanitario.